Certo che quando Dio distribuiva, sono comunque un coglione, eh, sia chiaro Basta, ma quanti cazzo di persone ci sono su quest'isola? Cavolo, sarà figo però, eh Mettiamolo su il care box accanto Cioè, è una cosa che ci sta meglio, sospesa, non credete? Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video Oggi, siamo qua ragazzi, tornarei su Minecraft Più precisamente nella Ultimate Island E ragazzi, mi trovi da subito a lasciare un bel pollice in su Ad un commento per questa serie E solo a guardarla, Zanzo se ne è innamorato Ha iniziato a portarla anche io sul suo canale Quindi andate anche sul suo canale a vedere la serie Perché ovviamente abbiamo scelto due strade diverse Per farmare e fare cose Oggi nell'isola ci sono tantissime novità Ad esempio, vediamo che nell'inventario Sono quattro e due chiavi misteriose Scopriremo tra un pochino che chiavi sono E quindi le andiamo a drapire E faremo tanti bei salti di gioia Come potete vedere ragazzi In questa chest Ho della roba del kit pirata Chissà, avrò il kit pirata o no Lo scopriremo facendo slash god Comando abilitato Quindi sì, ho il kit pirata L'ho fatto per un motivo Ho il kit pirata perché adesso ho il piccone Uno dei migliori picconi che c'è Ovvero il piccone del pirata Non ho più problemi ad inchantarlo Perché come nelle altre serie Dove ci sono i picconi dei vari kit Se inchanti il piccone non migliore Ma uno dei picconi mediocri Puoi ti girare il cazzo Perché devi inchantare il piccone migliore Quando lo avrai Quindi ho aspettato di usare tutte le mie name tag E tutti i token che ho farmato in questo tempo Per arrivare a aspettare il piccone del pirata E vi ricordo che per avere delle name tag Come anche io qualche name tag L'ho avuta in questa maniera Potete votare su Minecraft Italia il server Che è Notificraft E potete avere appunto delle name tag Che è la ricompensa più succulenta Ed ora sono anche aumentate Quelle che vi danno Quindi andate a votare Facciamo prima le chiavi Almeno ci muoviamo in funzione Di quello che ci troviamo dentro Le chiavi sono 4 legendarie E 2 mitiche Ringrazio chiunque me le abbia donate Perché non ricordo i nomi E andiamo a Il legendary crates Prima E poi alle mitiche in fondo Primo legendary Qui ragazzi sono premi veramente Veramente succulenti Attenzione Primo premio Blocchi diamanti Vabbè 64 blocchi Schifo non ci fanno Tanto poi di Piantiamo sull'isola Come dei chiodi Per aumentare il nostro livello dell'isola E adesso Ancora diamanti No le boccette dell'exp A che servono le boccette dell'exp E 1 milione e mezzo 1 milione e mezzo Per la quantità di denaro Che alla fine Ho ricevuto Durante il tempo Di questa serie Non è tanto Però non si butta mai via E l'ultima legendary Dai dacci qualcosa di poteroso Del ferro Ma è così raro il ferro Da trovarlo Nella legendary chest No Attenzione Adesso andiamo per la mitica Attenzione Per la mitica Mob spawner di coniglio Livello 12 Non so se è bene o male Quello della strega È una bomba atomica Quello di coniglio Non lo so Ma andiamo all'ultima Mythical key Che troverà Attenzione Attenzione C'è un sacco di spawner Da trovare Ma anche 10 legendary 10 milioni 10 legendary Non erano male 10 milioni Sono peggio Ma non li buttiamo via Siccome Zanzo Ha regalato un sacco di chiavi Le voglio regalare pure io Tra l'altro Il giorno ero lì All'asta Volevo comprare delle chiavi Per aprirle nel video E ho detto Oh cazzo Dei epic rates E costavano anche una cifra Ragionevole le compro Le ho comprato Ho scoperto che è un troll Perché non sono Chiavi che puoi usare Sono tipo rinominate Qualcosa del genere Quindi mi hanno Enchulados 64 common key Tutti al warp Gratis Che vi do Un po' di Kay E adesso li lanceremo Lì nel mezzo Siete pronti Carichi 3 2 1 Via 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 Chi le prenderà Non tutte e uno Spero Spero le prenderanno Almeno un po' Un po' Divise Questo era quello che avevo Ma andiamo allo slash Is ancora Perché se non prendiamo Le name tag da scambiare In token Andiamo da poche parti Allo slash Warp and Chant Potremmo scambiare Due name tag per un token Scrivendo Slash Scambio Token E ci ha dato 32 token Ovviamente queste 25 Targhette da sole Non le posso scambiare Perché appunto Ho scritto anche Deve avere almeno uno stack Intero Quindi non ho uno stack Intero Slash Token Per scambiare Quanti token ho Ho 1702 token Cosa ci posso fare Universal Che a me sinceramente Piace e non piace Ast non è affatto male Per 50 token Il mio piccolo Ovviamente non ha Ast MMM Aumento il guano di esperienza Non ci interessa Dobbiamo tipo 753 mila boccette La fly Ce l'abbiamo di già Strength Su spada Ed ascia Strength la prendo ragazzi Perché si farma molto meglio Quindi livello 1 Livello 2 Livello 3 Il livello al massimo Adesso c'ho strength 3 ragazzi Che dovrebbe veramente Spaccare tutto Poi c'è Pikachu Che lancia fulmini Amito di avversari Livello massimo 10 Cima costa tipo Una fraccata Perché poi è esponenziale Io ho bisogno Notturna sull'elmo Ce lo faccio Che non si sa mai Asti sul piccone Ce lo facciamo Raga così finisco tutto È così Oh ho finito Tutti i token Non hai abbastanza tokens Però tipo C'ho asti infinito Guardate come scavo Ed ora possiamo Tornare alla nostra isola E vedere quanto Spacco veloce il cubo Abbastanza eh Che dite Con il monoclick Penso che sia abbastanza Così veramente Fuori di testa Non ce la fa manco A sponare Ora funziona tutto No raga Fuori di testa Eh diciamo che Diciamo che ho visto Spaccare anche le cose Un po' più lentamente Vediamo quanta strength Invece mi dà la spada Allora Prima avevo una spada Peggiore Adesso non mi one shot Guardi non mi one shot Che palle Speravo di one shotarvi Comunque Uffa Io non so come fa la gente Ragazzi a non avere L'isola piena di ceste Sinceramente Io non me ne è capacito Cioè mi dite come cazzo fate A non avere l'isola Che è solo ceste Cioè io non Non riparo Non ce la faccio Tra l'altro raga Forse arriva il momento Di levare questi due pietre Miliari del canale Che sono questi due Due cubi di bedrock Che chi non sa Perché ci sono questi due cubi Di bedrock Vado a vederlo Nei Nei video Vecchi vai Che è la cosa più divertente Della terra Ovviamente lo so Che non è bedrock Ma è ossidiana Tranquilli Dovrei fare una cesta Con la roba utile E una cesta con la merda O addirittura fare un inceneritore Dove metto tutta la merda Tanto raga A parte mi serve un cubo Per questa cosa Datemi un blocchetto Un blocchetto di sabbia va Quello che si rompe Peggio Certo che quando Dio distribuiva Le teste di cazzo Io sono stato distribuito Ovunque Veramente È abbastanza easy Riparare a questo danno Sono comunque un coglione Sia chiaro Per me sto farmando Ad onorem Ma non serve più Farmare niente Che non mi dà più sfide Sul farming Ma arriviamo alla cosa Che caratterizza questa serie Ovvero slash c E qualche sfida Allora A caccia di enderman Allora il punto È che io avevo per caso Trovato Degli enderman Se non sbaglio Che mi avevano droppato Della roba Esatto Nello spawner di zanzo Quando eravamo andati a farlo Ero sporati degli enderman Mentre facevamo Lo spawner E li ho ammazzati E mi hanno droppato Sto roba qua Anche con la spada Con saccheggio Quindi ho fatto abbastanza veloce Quindi La sfida degli enderman Si può considerare fatta E ci dà Un baule ender E una rechia Piazza 100 cassa Nella tua isola Qui ci siamo praticamente Vicini anche per sbaglio Intanto Una cosa da fare Sempre Ricordatevelo E mettere sti cazzo Di cartelli Qua giù c'è uno spawner Veramente bizzarro Da qualche parte L'avevo messo Non mi ricordo dove Eccolo L'omni spawner Spawna un po' di tutto Io non so Chi me l'ha dato Lo ringrazio ancora Però l'omni spawner Sarà quello che caratterizzerà La nostra farm L'idea è questa Di fare una parte di isola Completamente campagna Quindi tipo Alberi per le mele Orto per l'orto E una parte Dove ad esempio C'è una specie di prateria Dove spawnano Poi anche a piani Come l'ha fatto Zanzo Per ottimizzare il tempo Perché vi ricordo Che l'isola Non può essere Espansa quanto si vuole Quindi fare farm Su livelli in altezza Vi fa risparmiare spazio Utile E quindi da questa parte Quindi animali Orto Zucche Alberi Canne da zucchero E roba varia Poi c'è una zona La zona della casetta Del villagero Che fa sempre bene E poi qui ragazzi Vorrei fare una etna Spawner a livelli Che ne so Ad esempio Potremmo farlo anche Sfalzato Che magari è figo Partendo ovviamente Dalle streghe Quindi quelli più utili Tenderò a farli verso il basso Anche se al momento Non ce li ho tutti E quelli meno utili Verso l'alto Perché uno cosa dice Voglio fare meno strada Per le cose più utili Chiaro Poi guardi lì Se avessi qualcosa di carino Da comprare Explosion Cazzo è Spada ragazzi 250 milioni È bellissima C'ha tutti gli enchant possibili Ma quello che vi dicevo prima È che vedete Lui ha fatto tutti gli enchant Su questa spada Quindi è bellissima Che c'ha Flyer, Pristine Vampire 4 MMO PP Exp Pikachu 5 Questa spada è una bomba Però siccome l'ha fatta Su una spada di livello basso Non è un gran che come spada Perché è meglio la mia Senza gli enchant ovviamente Ma è meglio la mia Allora adesso con la guada ragazzi Mi serve nemmeno il maialino Che mi dà l'abilità Ma se io voglio fare appunto Una zona agricola Una zona con tanti alberelli Devo mettermi qua A fare appunto Qua intanto posso anche fare così Perché ovviamente Mi fa comodo Ci sia lo spazio d'acqua laterale Tramite No Ok Raga ma che cazzo è questo C'è qua sopra? Sì Se tornate in direte Guardate la parte del video precedente Quella chest non c'era E la cosa sinceramente Mi fa abbastanza paura Questa l'avevo vista ancora Cazzo c'è? Quattro chiavi Non c'era prima sta chest Mythical K Se sono quattro mythical Ragazzi salto in aria No Quattro Non sono quattro mythical Sono tre legendary Una mythical Buono Grazie chiunque tu sia Buon samaritano E me l'hai messa sull'albero La prossima volta Mettimela lì sotto Che la vedo meglio E qua se non la vedevo per sbaglio Facendo la cosa La zona agricola Non la vedevo Qua mettiamo un secondo in posto Andiamo ad aprire le chest Io amo aprire le chest Ragazzi Troviamo dai Troviamo per favore qualcosa Che prima Ci è andata bene Ma non benissimo Ecco Appunto Vabbè Un sistema di illuminazione carino Dai 25 spugne Ma perché le spugne Sono così rare? Sì va bene Questa è una serie Dove l'acqua fa male Quindi drenare l'acqua Fa sempre bene Ma cazzo Ma perché il prismarino oscuro? Dai che sfiga però Solo materiale ho trovato Che legno Dai Nella mythical crate Può andarci stra bene 25 epic key Maiala Sono infinite raga Vediamo cosa troviamo Nelle 25 epic key Grazie Torno un attimo all'isola ragazzi Perché le epic key Non mi entusiasmano Ma soprattutto raga Le epic key Non danno grandi cose Ma danno tanti materiali Di conseguenza Mi li levavo comunque dall'inventario Ma le apriremo nel prossimo video Quindi le mettiamo lì E continuiamo a fare Il nostro terraforming Qua In realtà Questa casetta fa Potremmo anche buttarla giù In realtà Eh Dico La butto lì La butto lì così Però Qua dentro Non mi chiedete cos'è Non mi chiedete cos'è Ragazzi Ma c'è un creatorino Che è un Un pipistrello Che sta qua così Quindi boh Questa sarà la gabbia di creatorino Però da caso mai Un giorno la butteremo giù Eh Creatorino Penso debba essere un Un pipistrello libero Quindi Addio Creatorino Ah ma stai da me? Stai con me? Vabbè io ti tengo qua sull'isola Finché ci vuoi stare Casomai appena vuole partire dal cazzo Te la via dal cazzo Il portatello in realtà può anche rimanere sospeso È una cosa sovrannaturale Non l'inferno Quindi Potrebbe anche rimanere sospeso in realtà Invece sta zona qua con i diamanti Veramente fa Un cagare alluscinante La cosa migliore sarebbe Metterlo sotto terra Come vi avevo detto E adesso abbiamo anche la god Potremmo farlo anche con facilità Peraltro Perché la zona materiali casuali Veramente È dannosa Per la vista Veramente Io vorrei giusto giusto Rimuoverla Ecco mettiamola così Ho un bel po' di diamanti da ripiazzare E lo piazzerò esattamente Qua sotto Vedete questa è la zona di cui vi parlavo Che è una bella zona Dove fare i vostri pilastri Di roba inutile Tipo il diamante Perché almeno non si vedono Stanno lì sotto e via Il sistema di zanzo Di mettere diamanti E robe vari Materiali preziosi Per far crescere il livello dell'isola Non è male Però secondo me È un po' invadente lo stesso Cioè preferisco averli sotto A sto punto Almeno sotto Che cazzo hai in cura sotto Mentre facevo i miei lavoretti sull'isola Un losco individuo mi contatta Mi chiede di entrare su TeamSpeak A fare due chiacchiere Il losco individuo di cui vi sto parlando Ovviamente è zanzo Ma stai registrando? Sì sto registrando Vieni Cosa mi dai? Dimmi un po' Oh oh E questa cosa è? Questa è questa primizia? Ma ho un'altra mythical Oggi ho una sfiga zanzo con le mythical Sì Ho aperto 3 4 Ok non lo so Dai apri quella che ti ho regalato io Questa è quella fortunata? È un dono Un dono Volo non so Sei fortunata Porca Voglio uno spawner Ho tanti soldi o uno spawner No 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 Ok Madonna Andava pianissimo sull'armatura Ho fatto una sfiga sull'armatura Ha fatto un tick Mob spawner di guardia a livello 5 È buono No Ha fatto un'altra tick 15 milioni Vabbè dammeli a me Se ti fa schifo No non li butto via Però preferivo lo spawner E lui? E lui è Oh Come cazzo ha fatto a uscire? Ah l'ha fatto uscire te Ok Ho fatto un po' ristarcionata Vuoi aiutarmi? No assolutamente Anzi io adesso vado Ti saluto Questo è il tuo episodio Non era prevista la mia apparizione Quindi me ne vado Ciao No 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 davvero Bastardo Vogliamo farla divisa Dall'orto Quindi levare anche sta parte qua O no Nel frattempo ragazzi Ho fatto questa cosa Che a vedersi così È un po' bruttina Ma tranquilli E poi quando prenderà forma Sarà anche decente E guardabile Come dire Il portale vorrebbe andare verso l'alto Quindi è fluttua E quella che c'è in fondo È un peso Che lo riesce a tenere fermo E questa è la catena Che lo tiene fermo Adesso c'è una catena sola Che è molto più bella da vedere E questo che viene tenuto fermo Appunto da una catena E questo è il portale più largo Di prima E andiamo a rinchiuderlo Con E mucchette Di spawner Da piazzare ragazzi Sono questi E poi vanno ovviamente Potenziati piano piano Qua perché c'è questo spazio vuoto Non so se piazzarli dritti per dritti Oppure faccio una specie di contenitore sotto Io direi di farci il contenitore sotto Ah ragazzi Se non spawner nemmeno Con il rabbit livello 12 È un problema Lo spazio ce l'avete La terra ce l'avete Non lo spawno al cazzo Questo è uno dei più grandi fail Della storia Quindi ragazzi Spostiamo il portale del nether Perché qua è veramente scomodo Proprio in mezzo ai coglioni Mettiamo lo squicker box Accanto a questi Va bene C'ho un po' di diamanti Thank you Posso screen E sei qua Quindi anche volendo Non so se si può fare Proviamo Non si può fare Cavolo Sarà figo però eh È tipo un portale Tridimensionale Però sulla base di questo Di questo portale tridimensionale Ragazzi Volevo aprirci una parentesi Che proverò Proverò diciamo A fare qualcosa di figo Qua ragazzi Farò una pavimentazione di grass Dove metterò altri alberi Questo sarà il piano degli alberi Di modo che gli alberi Possano spawnare qua sopra Non intralciare la vista Non intralciare niente Ancora Altra gente Basta Ma quanti cazzo di persone Ci sono su quest'isola Uff Fatto anche questo tetto Ragazzi Questa è la mini stalla Dove ci saranno gli animali Appunto I'm David Colui che mi ha dato i diamanti Mi ha dato anche una dritta Mi ha dato le scooker box Siccome le possono aprire tutte Non le lasciare qua Infatti Ho guardato Tipo mi hanno detto Guarda subito questa vuota Ho fatto No mi hanno già rubato Mi hanno ripresi lui Ho detto guarda Li rendo Mettine una chest Grazie quindi Danny Che mi ha dato anche questo hint E suppongo che nel prossimo episodio Andremo a sviluppare Oltre a completare quelle quest Che ancora abbiamo completato Andremo a sviluppare Questo spawner Sala degli spawner Quindi cercherò magari Di comprare I due spawner Più potenti Oltre alle streghe Di modo da farli subito Ai primi livelli Senza farmi fare Tutta la triteria Di ricambiarli in futuro E poi svilupperò In altezza Tutti gli spawner Un po' meno utili Voglio anche fare però Una cosa con questo Nether portal Voglio farlo Tipo tridimensionale Vediamo Del 9 ragazzi 1 2 3 E 4 Ok Vedete C'è una cosa che ci sta meglio Sospesa Non credete Si no può entrare Può anche non entrare In un portale del Nether Se no può entrarci Questo è appunto Come è l'isola Adesso che l'ho un po' sistemata Non sono ancora finita Le sistemazioni Probabilmente i villager Verranno Verranno spostati Oppure verranno messi In un loco Un po' più carino Questi smeraldi qua Verranno levati dalle palle Come questi blocchi di carbone Queste chest Verranno tutte E dico tutte Stoccate in un unico magazzino Che molto probabilmente Sarà esattamente Qua sotto Dove c'è questo blocco Infinito di isola Lo scaverò tutto E ci fa come una specie Di stoccaggio infinito Di chest Quindi nini Vi lascia un bel pollice in su Ed un commento Iscrivetevi al canale E passate anche A delle mie social Che sono qua sotto In descrizione Noi siamo Che al prossimo video Per questo video è tutto Ciao nini Ciao nini Ciao nini Ciao nini